Ma se noi facciamo un giro con la Vespa quando la scrocco a mio figlio e facciamo i lavoretti per pagare le bollette e ti preparo colazione con il burro di soia e troviamo le cose per terra e ci facciamo e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo un'ora qualsiasi con mozzarella e pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia e ci mandiamo gli sms se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori. Ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da un euro al chilo a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo ma pazienza lui passa noi per mano noi tu tu come puoi pensare che ci manchi qualcosa? stelle vicine non mi intendo del cielo riconosco costellazioni ogni tanto per caso una che so è la cintura di orione l'ho ritrovata subito in tre nei che hai tra seno e seno tre puntini in fila verticale che si inclinano scendendo giù dalla parte del cuore se con la mano di sfioro scommetto ti si increspa la pelle queste stelle le amo meglio che quelle del cielo perché le posso toccare col dito se tu permetti e loro mi rispondono ciao 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 ciao